Un milione di gemme! E chi quest'hardrop leggendari? Pazzi! Dai papi che la vinciamo questa partita! No! No ma che tiro hai fatto! Ma l'importante è divertirsi! Nuovo evento Supercell Se sei il classico giocatore tossico che usa queste mott Smetti di usarle perché ora dobbiamo usare solo Pollic in su come piovesse! Da oggi 10 giugno fino al 20 ogni volta che qualcuno utilizzerà il pin Questo si aggiungerà alla barra e ci farà ottenere Subito abbiamo già sbloccato doppie star drop giornaliere A 100 milioni di pollici in su exp doppi A 200 doppia maestria A 500 1 miliardo 2 5 e 10 le 5 star drop leggendarie Che verranno date tutte insieme a fine evento Quindi non preoccuparti se non le trovi subito una volta sbloccate Ma non finisci qui perché ci sarà anche un milione di gemme Che verranno distribuite a 10 giocatori! Per partecipare bisogna mostrare un momento in cui sei positivo nel gioco Tipo l'inizio del nostro video oppure di un incoraggiamento O di un messaggio positivo mandato da un amico E pubblicarlo sui social media utilizzando gli hashtag Se vorrai selezionato ti contatteranno sui social media Se così fosse cosa ci faresti con un milione di gemme? Se dovessimo essere selezionati noi Vorremmo dividere con uno di voi Visto che sarà possibile farlo E via!